Musica Buonasera con Mercati che fare, bentrovati. Questa sera parleremo di piani individuali di risparmio. Se ne parla tantissimo in queste ultime settimane, abbiamo già affrontato l'argomento qui a Mercati che fare, ma qui abbiamo il padre putativo di questo strumento, Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie per essere con noi questa sera, Pagani. Grazie a voi per l'invito. Allora, prima di chiamarla in causa, io manderei in onda la scheda che abbiamo preparato per raccontare brevissimamente che cosa sono questi piani individuali di risparmio e poi lei ci darà tutte le delucidazioni del caso. Pagani individuali di risparmio sono strumenti finanziari studiati dal governo per indirizzare gli investimenti delle famiglie a sostegno della piccola e media impresa italiana. Questi i vantaggi fiscali per i sottoscrittori, azzeramento della tassazione sui redditi generati dall'investimento ed esenzione dalle imposte di successione. Per godere del beneficio fiscale, il piano deve avere una durata minima di 5 anni, L'importo massimo annuo sottoscrivibile è di 30.000 euro per un valore totale pari a 150.000 euro. Per legge, il portafoglio del PIR dovrà contenere per almeno il 70% strumenti finanziari emessi da aziende italiane o europee con organizzazione stabile in Italia. Di questo 70%, almeno il 30% deve essere investito in titoli non presenti nell'indice FUZI-MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Bene, allora una bella idea, Pagani, quella di creare un ponte tra il risparmio, direttamente il risparmio, e le imprese che hanno fatto sempre grande il nostro paese. Sì, guardi, noi siamo partiti da questo concetto, che le nostre imprese hanno una grande capacità, hanno una grande capacità di trovare nuovi prodotti e di trovare nuovi mercati. Voglio dire, hanno una capacità di innovazione, hanno capacità di andare all'estero, di esportare e di essere estremamente competitivi. Però hanno qualche debolezza e una di queste, forse la principale, è l'assenza di capitale. Cioè sono imprese che rimangono troppo piccole, che non hanno fondi propri sufficienti, fondi propri sia per investire, sia eventualmente anche per fare acquisizioni e quindi per aumentare la loro massa crisi. Tra l'altro anche la crisi violenta che ha subito e sta continuando a vivere il sistema bancario italiano non le ha aiutate, perché poi credito nei loro confronti non è stato fatto, è stato quasi azzerato negli ultimi anni. Esatto, c'è un tema anche di credito, però c'è un tema, secondo me, ancora più importante, più filosofico e concettuale di spostare il finanziamento dell'impresa dal credito tradizionale a forme più sofisticate di accesso al mercato dei capitali. Le nostre imprese devono andare sul mercato dei capitali, sia su fondi di credito, sia con obbligazioni, sia attraverso naturalmente quotazioni, per avere quei fondi che sono necessari per lo sviluppo dell'impresa. Questo avviene, ma non avviene in misura sufficiente. Non avviene in misura sufficiente anche perché il nostro mercato dei capitali non riceve sufficiente risorse dal risparmio italiano. Il risparmio delle famiglie italiane è immenso. L'Italia è uno dei paesi che ha un più grande patrimonio di risparmio. Siamo a oltre 4 mila miliardi di attività finanziarie, quindi a disposizione c'è davvero tanto. Però fino adesso mancava uno strumento che facilitasse e desse anche un riconoscimento dal punto di vista fiscale, questa canalizzazione del risparmio dalle famiglie, dai risparmiatori singoli, alle imprese italiane. Sottolineo questo aspetto, imprese italiane. Infatti abbiamo visto nella scheda il vincolo di portafoglio del PIR ad investire proprio nelle imprese italiane. Esatto. Ecco, il concetto del PIR però dove nasce? Perché in Inghilterra, in Francia, questi territori sono stati già esplorati con successi particolarmente importanti, soprattutto nel mondo anglosassone. Sì, abbiamo guardato gli esempi che hanno messo in campo i nostri amici europei, in particolare Francia e Gran Bretagna. In Gran Bretagna l'esperimento è stato di particolare successo. E ha portato molte risorse alla piccola e media impresa inglese e è uno degli elementi che ha contribuito anche al successo della piazza finanziaria londinese. Il nostro non è uno strumento che replica in maniera pedissequa questi esempi inglese e francese. È uno strumento che abbiamo cercato di adattare alle necessità del nostro mercato. E anche con un dialogo con la Commissione europea, perché naturalmente c'è sempre un tema di potenziali aiuti di Stato che siamo riusciti in realtà a smarcare. È uno strumento che, se ha quelle caratteristiche che spiega il servizio, la scheda tecnica che avete messo in piedi, permette al risparmiatore di avere un'esenzione fiscale totale dalle plusvalenze dell'investimento. È un bel interesse per il risparmiatore, visto come erano cresciute negli ultimi anni queste imposte, praticamente un quarto della redditività delle plusvalenze veniva azzerata. In questo caso non ci sarebbe. Però per il risparmiatore c'è anche dell'altro. È una forma di educazione ad andare con i propri risparmi verso sistemi di investimento e sistemi di valore diversi a quelli che aveva percorso fino ad oggi. Abbiamo di quei 4 mila miliardi di cui parlavamo prima, quasi un terzo in questo momento sono totalmente in liquidità. Essendo su strumenti di liquidità non hanno neanche remunerazione. Hanno remunerazione e non servono a far crescere l'industria italiana e l'economia italiana in cui spesso il risparmiatore è fortemente immerso perché è un lavoratore, è un manager e vive in Italia. Quindi questo strumento ha più effetti. Naturalmente, questo vorrei sottolinearlo, il risparmiatore che decide di sottoscrivere uno strumento di questo tipo deve farlo con tutte le cautele del caso. Anche perché c'è molto fermento sul mercato delle aziende che vanno a sollecitare il risparmio in questa direzione. C'è un elemento generale che vorrei dire sia ai promotori che devono rispettare tutta la normativa MIFI in materia di tutela del risparmiatore e del consumatore e naturalmente per il risparmiatore fare attenzione e capire se l'investimento che ha un certo tipo di profilo di rischio corrisponde alle proprie necessità. C'è un altro aspetto che non sottovaluterei, che è che l'investimento deve essere tenuto per cinque anni, quindi è un investimento di lunga durata. Questo diminuisce il rischio sull'aspetto della volatilità, ma anche garantisce alle imprese che ricevono il finanziamento quella stabilità di finanziamento che è necessaria. Che è fondamentale anche per programmare, progettare, sviluppare nuove attività all'interno dell'impresa stessa. Per il risparmiatore però c'è anche un'indicazione molto chiara dal punto di vista educativo sulla quota di risparmi da dedicare al nostro paese. Non tutte le fish sull'Italia, ma una parte importante, però voi avete, come abbiamo sentito nel servizio, definito un massimo di 30.000 euro all'anno per 150.000 euro totali da poter raggiungere. Esatto, c'è un cap di 30.000 euro ogni anno per un massimo di 150.000 euro. Lei parlava prima di vincoli. I vincoli in realtà sono soltanto di natura fiscale, perché se viene scelto ad esempio un fondo comune di investimento, rinunciando alla leva fiscale il risparmiatore può rientrare in possesso ogni quando vuole delle somme investite. Assolutamente, il vantaggio fiscale scatta a partire dal quinto anno in poi, il risparmiatore può tenerlo anche più di 5 anni, però se decide di tenerlo meno perde semplicemente il vantaggio fiscale ma può riscattare il titolo. Un aspetto importante, come mi raccontava lei a microfoni spenti, che una volta terminato il vincolo fiscale, poi quel prodotto resta defiscalizzato fin quando non si voglia tenerlo. Certo. Ecco, dal punto di vista dell'impostazione tecnica, che cosa questo prodotto può dare al nostro paese? Voi avete già fornito delle stime importanti per quanto riguarda le masse di risparmio che pensate possano passare dai conti correnti in questo momento ad esempio a questi strumenti? Sempre difficile dare numeri perché è facile essere smentiti, però diciamo, mi faccia dare una sensazione, la sensazione è che questo strumento sia stato immediatamente recepito, cioè compreso dagli operatori e anche probabilmente dai risparmiatori, perché noi vediamo, come diceva lei, grande fermento. Quindi vediamo che questi fondi PIR stanno nascendo e anzi si stanno moltiplicando, ed è bene perché anche la concorrenza e la competizione migliora la qualità e abbassa le commissioni. La stima che abbiamo fatto è una stima che potrebbe portare all'economia reale circa 10 miliardi e quindi quando parlo di economia reale mi riferisco soprattutto a imprese che stanno sotto l'indice del Futsimib, quindi che stanno sotto le prime 40 imprese del paese e che quindi sono imprese che insomma sono imprese medie, piccole e medie imprese e che hanno proprio, sono quelle che hanno maggiore necessità di aumentare i fondi propri. Tra l'altro sono le imprese che rappresentano di più il mercato italiano, perché se andiamo a guardare il Futsimib abbiamo un peso enorme in quell'indice delle banche ad esempio del nostro paese, mentre negli indici dove non sono presenti le banche abbiamo proprio le imprese, il tessuto industriale vero che ha costruito il nostro paese. Bravo, nel Futsimib ci sono molte banche, ci sono molte utilities, che sono i tipi di industria, di business che sono capaci da solo di trovare le risorse, che sono già estremamente attraenti per gli investitori e per gli investitori internazionali. Invece noi dobbiamo far arrivare questa linfa alle imprese medie che caratterizzano il nostro tessuto industriale. È un investimento anche sul nostro futuro fondamentalmente, al di là dei 5 o addirittura dei 10 anni, perché ricordiamo che ogni versamento anno ha poi una scadenza fiscale di 5 anni, quindi l'ultimo versamento del quinto anno torna disponibile fiscalmente al decimo anno. Però dicevo, è un investimento anche sul nostro futuro, sulla ripresa anche dell'occupazione e quindi anche per quanto riguarda i nostri figli. Assolutamente, peraltro in un momento in cui questa ripresa la vediamo, perché gli ultimi dati che abbiamo sono dati interessanti, importanti, abbiamo scoperto che nel 2016 abbiamo fatto il più grande surplus commerciale nella nostra storia, sostanzialmente comunque degli ultimi 25 anni. Quindi la ripresa c'è, dobbiamo aiutarla ad accelerare. Ecco, il risparmiatore come deve guardare questo tipo di strumento? Che tipo di ottica deve avere nel momento in cui si avvicina a questo prodotto? Con cautela, perché naturalmente qualsiasi tipo di investimento deve essere commisurato alle proprie necessità, alla propria propensione al rischio, deve farsi consigliare, ma deve anche prendere una decisione informata. Quindi fare attenzione all'investimento che fa. Questo per i PIR, ma alla fine per qualsiasi tipo di investimento. Poi, permettetevi, direi, deve guardarli anche con un po' di patriottismo, perché queste sono risorse che andranno ad imprese italiane. E voi avete anche una joint venture, definiamola così, con asso gestioni proprio per orientare nella maniera più corretta il mercato delle aziende che lavorano nella sollecitazione del pubblico risparmio. È importante che ci sia attenzione anche alla parte. Abbiamo lavorato con gli operatori del settore e con l'industria, così come abbiamo lavorato naturalmente con i regolatori, con Consob, affinché con lo strumento sia adeguatamente protettivo per il risparmiatore. La reazione degli imprenditori? Grande interesse. Noi abbiamo consultato a più riprese Confindustria e vediamo che effettivamente c'è un cambio di mentalità in Confindustria, per cui c'è molta più attenzione a questi strumenti alternativi di finanziamento, che sia l'azionario, che sia il private equity, che sia i fondi di credito. Credo che la presidenza di Confindustria stia facendo un grande lavoro di leadership in questo senso. Ecco, è importante, come dicevamo, orientare il risparmio nella maniera più corretta. Voi avete scelto come leva quella fiscale, una leva particolarmente sentita nel nostro Paese. Beh, è una leva particolarmente potente. Il 26% di detassazione è una somma importante. Avete dovuto fare anche i conti col bilancino per quanto riguarda... Sì, quando si fa uno sgravio fiscale ci sono sempre delle entrate in meno per il bilancio dello Stato, per la finanza pubblica. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a utilizzare questi sgravi fiscali in maniera oculata, in maniera che non metta in pericolo i conti pubblici. Però in questo caso ci è sembrato che l'interesse a finanziamento della nostra impresa fosse più importante, che giustificasse quelle risorse che mettiamo a disposizione. Logiche di pensiero però fanno immaginare che nel lungo periodo imprese che lavorino meglio grazie anche a tutti i capitali che dovessero ricevere potranno generare dal punto di vista dello Stato più entrate anche fiscali e magari nuovi posti di lavoro porteranno altri vantaggi anche sotto questo punto di vista. Esatto, noi lo vediamo come un acceleratore dell'economia, un acceleratore soprattutto del tessuto industriale italiano che fa la forza della nostra economia. L'Italia rimane il secondo paese manifatturiero d'Europa. Sui primi dieci distretti industriali europei sei sono italiani, gli altri quattro sono tedeschi. L'Italia è prima o seconda terza in tutta una serie di settori manufatturieri a livello mondiale e quindi dobbiamo assolutamente garantire che questo permanga. E su questo la dimensione dell'impresa e i fondi, il finanziamento che ha l'impresa sono chiave. Se io le lasciassi per un minuto la telecamera per parlare agli italiani e per raccontare tutto quello che c'è stato anche dietro la costruzione di questo strumento, alla fine che cosa chiederebbe loro? Io chiederei di guardare a questo strumento con attenzione, ancora una volta valutando la propria propensione e il rischio e come dicevo prima con un pizzico di patriottismo perché le nostre imprese spesso mancano dei finanziamenti necessari e dei fondi necessari per poter espandersi. I nostri imprenditori hanno grandi capacità e grandi capacità di innovare, però manca la dimensione. Dobbiamo far crescere le nostre imprese, dobbiamo farle andare all'estero non solo per esportare ma anche per fare acquisizioni e soltanto così l'economia cresce veramente. Non dimentichiamo che tra l'altro ad esempio nel Lime che è l'indice che raccoglie le imprese innovative, le start-up del nostro paese ce ne sono solo 70, nel mondo anglosassone sono molto di più per cui potrebbe esserci anche una crescita in questa direzione, non solo le imprese già esistenti ma tutte quelle che potranno nascere. Assolutamente, questo è uno strumento che può investire nel Lime così come può investire anche in imprese che non sono ancora quotate. E se le imprese crescono gioco forza dovrebbero crescere anche i mercati di riferimento e abbiamo visto che l'indice che rappresenta le piccole e medie imprese italiane è stato un pochino più stabile anche nel periodo di difficoltà rispetto al Fuzzinibe. Esatto. Bene, io ringrazio Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del ministro dell'economia e delle finanze per essere stato qui a Mercati che fare, la aspetteremo ancora magari fra qualche mese per commentare i primi risultati e gli esiti di questo posto. Facciamo il punto di come sta andando. Facciamo il punto nave insieme a lei di come sta andando. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a tutti voi per averci ascoltati. Mercati che fare, torna tra una settimana. Arrivederci, buona serata. Grazie a tutti.